Appendice al video intitolato Il fiore mascherato, che riporto in descrizione in questo video. La procedura con la quale ho raccolto la mascherina e l'ho smaltita, segue pedesquemente le disposizioni stabilite dal Ministero del Terrore, che voi chiamate della Sanità. Allora, quel video non è destinato a chi ha già capito come stanno le cose, è destinato agli altri, eh? A quelli che sono convinti della necessità di indossare quelle mascherine, eh? E ho dovuto seguire i dpcm, perché non si sa mai, qualcuno poi potrebbe dire eh, sei contagiata, è una sintomatica positiva, eh, ci impesta a tutti, ci impesta! Bene. Voglio che fate girare quel video e chiedete a tutti quelli che conoscete, convinti, se loro la risposta alla domanda ce l'hanno. Ce l'hanno la risposta alla, diciamo, lo smaltimento di queste mascherine? Che succede? Come viene fatto? Quali conseguenze ha? E infine, oh, qualcuno di voi l'ha vista la Greta Thunberg, eh? Chiamiamo chi l'ha visto? Chiamiamo chi l'ha visto e chiediamo a chi l'ha visto. Oh, qualcuno l'ha vista la Greta Thunberg, eh? Greta, vieni un po' a dirmi te la risposta alla mia domanda, eh? Cosa succederà adesso a Madre Terra? Eh? Greta, rispondi! Greta, rispondi! Greta, rispondi! Grazie.